Ciao ragazzi, in questo video vi parlerò di WC senza brida. Questo tipo di sanitario è sempre più diffuso ed effettivamente ha dei vantaggi che non si possono discutere, ma vantaggi a parte è anche vero che alcuni modelli potrebbero creare problemi. Ma sono problemi che non vi riguarderanno perché sto per dirvi come dovete sceglierli e a cosa dovete stare attenti. Ma prima di iniziare, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche, così sarete sempre aggiornati sulle guide che pubblicherò. Innanzitutto vediamo com'è fatto il WC tradizionale. Nel WC tradizionale l'acqua esce da un'incavatura, scorre lungo le pareti di questa specie di cornice e pulisce l'interno del WC. Quell'incavatura si chiama brida e ha due problemi. Il primo problema è il ristagno dell'acqua perché dopo il risciacquo una parte dell'acqua rimane sulla brida, dove diventa un luogo perfetto per germi e per batteri. Il secondo problema è che l'interno della brida è difficile da raggiungere e quindi da pulire. E tra l'altro la parte interna non è nemmeno smaltata. Qui se avete utilizzato i detersivi a beccuccio sapete di cosa sto parlando e di quanto sia difficile pulire quella parte del WC. Consapevoli di questi problemi, i produttori si sono inventati il WC senza brida. In questo tipo di sanitario manca l'incavatura. In pratica l'acqua esce da fessure centrali oppure messe in altra posizione, che tra poco vedrete, e questo tipo di vaso ha almeno tre vantaggi. Il primo vantaggio è che la pulizia del vaso è uniforme. In effetti tanti WC senza brida hanno un unico canale di scarico dell'acqua, che di solito è al centro sul bordo superiore, e a parte questo non c'è l'ostacolo dell'incavatura che frena in qualche modo l'azione dell'acqua. Pensate che secondo idea standard, nel WC tradizionale, più del 20% del vaso non è raggiunto dall'acqua di scarico. Il secondo vantaggio del WC senza brida è che è più igienico rispetto ad un vaso tradizionale. Questa è una conseguenza perché la mancanza della brida impedisce l'annidarsi di germi e di batteri. Il terzo vantaggio è che sono più silenziosi rispetto al vaso classico, e un esempio è il sistema Aqua Blade di ideal standard, dove lo scarico è del 25% più silenzioso rispetto al vaso tradizionale. E fin qui vi ho parlato dei benefici, ma c'è anche da dire che alcuni modelli potrebbero avere dei problemi che sono noti per lo più agli addetti ai lavori, quindi produttori a parte, i rivenditori dei sanitari senza brida e gli idraulici, che sono poi le persone che installano questo tipo di sanitario e che si sentono le lametele del cliente finale. Il primo problema, quello anche più noto e più temuto, sono gli schizzi d'acqua, per non dire le fuoriuscite d'acqua dal vaso. E qui verrebbe da dire che il diavolo fa le pentole ma non i coperchi, perché dopo la messa in commercio dei primi modelli sono iniziate ad arrivare le lamentele da parte dei consumatori, che loro malgrado hanno scoperto che tirando lo sciacquone del vaso, l'acqua si puliva il vaso ma non si fermava e usciva dal WC finendo sul pavimento. Questo problema era dovuto al fatto che l'acqua non aveva più un ostacolo come la brida, che in qualche modo conteneva il getto. Quindi unite il getto violento dell'acqua e l'assenza della brida e il disastro è fatto. Come rimedio, le aziende produttrici delle cassette di risciacquo si sono dovute inventare il riduttore di flusso, che appunto serve a rallentare il getto dell'acqua dalla cassetta al WC. Questo problema ormai è noto agli addetti ai lavori. Comunque per sicurezza, se volete acquistare un WC senza brida, chiedete informazioni al rivenditore e poi all'idraulico, che in fin dei conti è la persona che deve installare il sanitario. Il secondo problema, se vogliamo, è anche più singolare del primo e l'ho scoperto da poco quando mi è stato inviato il video che state vedendo. In pratica, in questo WC senza brida, gettate la carta igienica, tirate lo sciacquone, ma la carta che ti rigira rimane nel water. Io non sono un esperto, ma se la carta rimane nel WC, l'unica spiegazione è la modalità del flusso dell'acqua, che come vedete è a vortice. In pratica si crea un mulinello e la carta rimane sul posto. Nei WC tradizionali non avevo mai visto questo tipo di scarico, mentre mi è capitato di vederlo già più di una volta nei vasi rimless. Quindi, anche in questo caso, chiedete spiegazioni al vostro rivenditore. Per quanto riguarda i prezzi di questi sanitari, per un discreto WC senza brida dovete spendere attorno ai 100€, che diventano 190-200€ per la coppia water più bidet. Se volete un WC migliore, dovete arrivare ad almeno 250-270€, mentre per la coppia siamo ai 3,90-400€. Parlo ovviamente di prezzi indicativi, che variano in base al brand, alla collezione e al tipo di design. Questo video non è sponsorizzato, ma se vi interessa il prodotto, potete dare un'occhiata a tre modelli che hanno una buona reputazione. Il primo è AquaBlade di The Standard, che è anche uno dei più conosciuti. Il sistema si chiama appunto AquaBlade, ed è disponibile per diverse collezioni dell'azienda. Il secondo è il sistema Rim Free di Pozzi Ginori, anche questo disponibile per diverse collezioni. Ed infine c'è il sistema Norim di Kerasan, che ha la mia terza proposta. Quasi tutti i WC senza brida sono disponibili nella versione sospesa e a terra, e personalmente il prodotto mi piace, sia per il discorso igiene, sia per la facilità di pulizia, perché è veramente scomodo pulire l'interno della brida. Mentre per quanto riguarda i problemi, come vi ho detto, l'unica soluzione è informarsi sia dal rivenditore, sia dall'idraulico. Nella descrizione del video trovate altre informazioni su WC senza brida e sui sanitari e l'arredo del bagno in generale. Se avete domande su quello che ho detto, scrivete un commento qui sotto e vi risponderò il prima possibile. Condividete il video, iscrivetevi al canale attivando le notifiche e lasciate un mi piace. Ci vediamo alla prossima puntata, qui su Voglia di Ristrutturare. Un saluto a tutti da Lorenzo. Ciao ragazzi!